Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stappa di oggi, martedì 16 luglio. Saluto tutti quelli che hanno seguito ieri Quarta Repubblica, una giornata un po' particolare perché Di Maio poi alla fine ci ha dato buca, ha detto che c'era il tavolo dell'Ilva in corso e quindi non poteva venire da noi. Ma spero che sia andata bene per tutti quanti voi. Io poi parto non domani dopo domani, quindi insomma un po' di vacanza, ma la zuppa cercherò di farla insieme a un diario di viaggio che cercherò di tenere sul mio sito nicolaporro.it. Cosa è successo? Purtroppo poi alla fine andiamo a raccontare sempre le solite cose. Oggi Salvini e la maggioranza litigano con Conte, che sembra essere rinato. Il Presidente del Consiglio, quello che sembrava l'avvocato del popolo, ma soprattutto il mediatore tra Conte e Di Maio, ieri alza la testa e rompe le scatole, forse anche giustamente, a Salvini. Ingiustamente direi sulla Russia perché dice venga a riferire in Parlamento come se in Parlamento si potesse riferire di quello che ha fatto un uomo legato sicuramente a Salvini, ma che non ha nessuna prova che abbia fatto qualcosa ancora di commendevole. Ma insomma l'altra questione che ha fatto Salvini, cioè la riunione al Ministero degli Interni con 43 sigle sindacali, quello dice Conte è una grave scorrettezza istituzionale. Travaglio ovviamente prende in giro sul lato debole Salvini e cioè sul fatto che Savoini, l'uomo che era andato a trattare per questa fantomatica partita di petrolio, anzi di benzina che Rosene all'hotel Metropoli, in realtà è un grandissimo amico di Salvini, lo è sempre stato, ha fatto mille selfie con lui, era in tutte le delegazioni e su questo c'è a buon gioco il portavoce del Movimento 5 Stelle Travaglio a dimostrare come non si possa far finta e nascondere sotto il tappeto un proprio collaboratore. Messina sul Repubblica dice un'altra cosa, è improprio che il vicepresidente del Consiglio abbia visto i sindacati a Viminale e addirittura il Viminale è diventato secondo Messina proprietà privata. Mi sembra una leggera esagerazione anche perché lo stesso Messina nota come Salvini sia anche vicepresidente del Consiglio, in qualità di vicepresidente del Consiglio magari qualche sindacato se lo può vedere sulla manovra economica essendo il numero due di questo governo. Vi è più, dice Messina, non poteva farlo a Palazzo Chigi perché c'era Siri l'indagato che si è anche dimesso dal governo, insomma è una storia molto incasinata in cui è evidente che Salvini ha cercato un fallo in area di rigore, ma d'altronde con un governo che non fa l'ILVA, che non fa il, oddio sembrava Salvini che iniziava, oggi ho visto i commercianti, gli artigiani, i muratori, gli agricoltori, sapete quando inizia a fare quella lista là? Però adesso obiettivamente senza prendere in dopo Salvini, però che cavolo, se quelli gli chiudono l'ILVA, cercano di chiudere quell'autostrada e poi dopo la farla entrare sull'Italia, se fanno la cittadinanza, non gli vogliono fare la flat tax, un po' ci sta che il vicepresidente del Consiglio primo partito di fatto di questo governo in prospettiva, insomma voglio dire la sua in politica economica che è il vero tema dopo l'immigrazione. Mauro invece, Ezio Mauro dice che Salvini scappa sulla vicenda, diciamo russa, paura di un leader braccato, questo è il titolo. L'altra grande questione ovviamente di ieri, che è in questi temi politici, è la questione dell'incontro che ci è riconosciuto a Viminale, lì ci sono secondo quello che sintetizza il Sole 24 ore 5 elementi fondamentali di questo incontro con i sindacati, come si possa fare un incontro e andare d'accordo con 43 sindacali, dall'Andini a Boccia, questo me lo deve spiegare qualcuno, ma comunque questa specie di rito incredibile ci cade anche la nuova Repubblica, il governo del cambiamento, tant'è che si stanno un po' litigando, oggi ci sono degli commenti, ai sindacati non dovevano andare, sono loro che legittimano, e il PD che lo ha detto, sono loro che legittimano questo governo. Ma la sintesi di tutto questo è che i cinque temi sono, flat tax fino a 55 mila euro al 15%, pace fiscale bis soprattutto per le imprese, anche se ieri sera il Ministro dell'Economia Tria mi ha detto una cosa importantissima, e cioè va bene, diciamo va bene la pace fiscale, ma attenzione è un unatantum, non può finanziare per sempre la rivoluzione fiscale che è in testa Salvini. Terzo elemento, sanatoria cassette di sicurezza, sostanzialmente quella già tenuta dal governo Renzi e bocciata all'epoca dalla Orlandia e l'Agenzia delle Entrate, poi la riduzione del cuneo fiscale che interessa molto di più secondo la propaganda all'Ogimento 5 Stelle e infine maxi piano di opere pubbliche, insomma piccoli cenni dell'universo, tutto questo fatto con 43 sindacati e con un governo per cui Conte dice e non fa quello che ovviamente non vuole fare perché si sente Presidente del Consiglio. Nel frattempo, nella specie di cialtronaggine totale di questo governo, il titolo migliore sull'Italia lo fa il tempo perché dice per le autostrade no, ma per gli aerei i Benetton sono ok, cioè ieri i consigli di amministrazione delle ferrovie dello Stato che non sono babbo natale, sono controllate da Di Maio, cioè da questo governo, hanno scelto come partner per fare la privatizzazione, sì privatizzazione boom, per il salvataggio dell'Italia che hanno scelto come partner Atlantia che sarebbe la proprietaria di autostrade, quella che entro il 14 agosto Di Maio, ministro dello sviluppo economico, ha detto che vuol togliere la licenza, quindi c'ha perfettamente ragione Becchis sul tempo, anche se il pezzo più azzeccato forse è quello di Zacchè sul giornale che dà il senso di quest'operazione, ma come Atlantia ha autostrade dentro all'Italia e dice in realtà qua non c'è nessuno il coraggio di dire, ma quello che sta avvenendo è che per la caduta del ponte Morandi, dove sono morte 43 persone, più che togliere la concessione, lo Stato sta facendo pagare una penale tra 350 e 400 milioni all'autostrade e la penale come si paga? Non in virtù di un contratto, non in virtù di un giudizio, ma semplicemente obbligandole a entrare in un'opera fallimentare come viene considerata all'Italia. Mi sembra questa forse l'analisi più sofisticata oggi sui giornali. Beh, lo sgombero di Prima Valle è incredibile, perché ieri sgombero dopo 15 anni una scuola pubblica a Prima Valle. Il giornale, punto di domanda, qual è il giornale che si è più indagnato su Prima Valle? Ditemelo, ditemelo. Secondo voi lo sapete qual è il giornale? Il vero giornale dei cattocomunisti. Quella roba per cui tu leggi la mattina è il primo giornale che devi leggere la mattina se sei di buon umore e dici no oggi sono troppo di buon umore. Cerchiamo di metterci un po' in antipatia. L'avvenire di Tarquinio! L'avvenire di Tarquinio è qua, è proprio il manifesto degli anni 70. E poi fra vent'anni i suoi giornalisti si spargeranno e faranno le morali come fanno oggi tutti quanti i ex giornalisti del manifesto. Mi auguro di no. Abbiamo già commesso l'errore col manifesto, ma oggi quando mi leggo sull'avvenire lo sgombero di una scuola di Prima Valle occupata da 15 anni in cui fanno un mazzo così ai poliziotti e non il contrario con scene di guerriglia urbana, beh, insomma, oggi sull'avvenire che cosa leggo? Famiglie sgomberate, ma Casa Pound no! Ma che c'entra? Ma cosa c'entra Casa Pound? Ma che ve ne fotte a voi? Dovete essere soddisfatti che si sgomberi una scuola in cui c'erano 50% delle persone delinquenti, spacciavano, prostituzione, quelle robe che forse al Papa non piacciono, o meglio a voi cattolici, diciamo, della CEI piacciono, ma in genere ai cattolici quella roba lì non piace, motivo per il quale oggi tutti i giornali riportano l'indiscrezione di ieri, cioè che l'otto per mille non glielo stiamo dando a sta chiesa, perché io l'otto per mille all'avvenire manco lo voglio vedere col binocolo, ma che cacchio c'entra questo titolo? Famiglie sgomberate, ma Casa Pound no! Neanche il manifesto titola così, il manifesto titola Sgomberata la scuola e 300 senza casa, che peraltro non è vero perché la Raggi gli aveva offerto delle case alternative, ma neanche il manifesto mette in relazione il fatto che è stato sgomberata una scuola con Casa Pound dei fascisti, perché questo è il retropensiero, Salvini fa il duro, che poi lo fa la Raggi, ma non con i fascisti che sono amici suoi. Questo è avvenire. Pensateci bene, quando fate la vostra dichiarazione di redditi, adesso ci penso, finanziamo avvenire. Ecco, io penso che è un orrore quello che leggo in un giornale dei Vescovi italiani, ma è un orrore, cioè ognuno è libero di scrivere, è bene che lo scrivano loro, perché in realtà se no non sarebbero che cosa commentare oggi. Il missile aria-aria, alcuni giornali ci inzuppano, ieri Vauro, ah, i fascisti con il missile aria-aria, se oggi voi leggete, mi sembra che sia solo la stampa a metterlo in prima pagina, questo missile aria-aria impressionante, comprato in Francia e di produzione francese 1980, capite che si tratta di una banda del buco, tutti di destra, come sono stati subito evidentemente sottoriati dai giornali, ma questi volevano vendere sto missile, non volevano fare un attentato. È grave? Sì. Puoi avere un missile? No. È giusto che ce l'abbiano questi qua? No. È giusto che siano stati pedinati e arrestati? Probabilmente sì, ma il punto è un altro, questi volevano vendere quel missile, non volevano fare un attentato con quel missile, anche se quando si parla di destra ovviamente non c'è più il sospetto, c'è la certezza che siano dei delinquenti. Ci vediamo noi come sempre sul sito nicolaporro.it per tante altre informazioni di giornata. Ciao.